ma ben ritrovati cari amici ma soprattutto cari amiche di total photoshop e sono max furia nuovo appuntamento con la tutorial tv in particolare come ben sapete con il nostro amico lightroom soprattutto ben ritrovati in questo nuovo ambiente così accogliente così solare che ci accoglie nei nostri nei nostri studi dall'altra parte della telecamera anzi delle telecamere troviamo la nostra buona martina banfi campionessa internazionale intergalactica di lancio del mouse contro il sottoscritto e oggi che cosa affrontiamo insieme il titolo del tutorial qua sopra il mio cozzone dice rinominare le foto se qualcuno non ha cambiato il titolo nel frattempo ma l'idea è proprio quella perché perché come spesso dico soprattutto quando parliamo di organizzazione del catalogo di lightroom una delle prime cose che dovremmo fare in nel momento dell'importazione è rinominare i nostri file digitali perché perché una foto degna di questo nome non dovrebbe mai chiamarsi con un nome del tipo underscore dsc 1481 punto qualche cosa ma dovrebbe avere un nome un po' più significativo e quindi come si può fare dal momento che abbiamo già importato le foto e vogliamo cambiare il nome dei nostri file subito dopo l'importazione beh la procedura è molto molto semplice allora io prendo i simpatici faccioni che abbiamo qua a nostra disposizione per cui i nostri cari amici e colleghi la cri la vero e il simpatico faccione del giorgio mi raccomando con la o chiusa e diciamo che il nome che attualmente troviamo e che è stato utilizzato in fase di importazione non ci piace più tenete sempre presente che questa operazione si può fare con ogni genere di nome ok anche se avete già cambiato il nome del file in fase di importazione potete comunque ricambiare idea bene allora seleziono semplicemente le foto che mi interessa rinominare quindi tengo premuto il tasto control o command se lavorate su mac clicco su ognuna delle foto che voglio rinominare e me ne rendo conto perché nella scheda nell'anteprima di ogni foto che ho nel modulo libreria viene riportato il nome del file quindi vado sulla voce di menu che si chiama proprio libreria e vedete che c'è una simpatica voce che si chiama rinomina le foto accompagnata da una scorciatoia da tastiera che più semplice non si può ossia f2 che cosa succede se ci premiamo sopra beh questa mascherina di dialogo la dovreste conoscere già perché posso scegliere di rinominare il file in base ad una data quindi potrebbe essere per esempio quella odierna nel momento in cui sto registrando questa questa puntata scegliere un nome legato al nome del file originale associato ad un numero di sequenza che posso decidere in maniera del tutto arbitraria per cui magari posso pensare di fare una raccolta dedicata con un numero di sequenza per ogni foto che corrisponda magari ad un ordine che mi sono dato o che voglio dare magari per una fase successiva di esportazione senza ulteriormente dover cambiare il nome del file cosa che potrebbe a lungo andare se continuiamo a cambiare i nomi dei file può diventare scomoda oppure posso scegliere come spesso faccio di impostare un nome personale e una sequenza quindi posso dire facce da total photoshop ok eventualmente posso decidere di sostituire gli spazi con dei trattini che è sempre una buona idea perché non si sa mai quindi aggiungo i miei trattini e dico il numero di inizio di questo renaming può essere uno ma può essere anche 10 nulla me lo vieta a questo punto don bell ok ecco che in veramente in un lampo tutta l'operazione è stata eseguita tranquillamente vedete che per esempio quella che prima si chiamava logic people eccetera eccetera con un numero adesso si chiama faccia da total photoshop e riporta il numero 12 se vado a verificare all'interno del finder o dell'explorer risorse facendo un tasto destro e scegliendo la voce mostra nel finder vedrò che effettivamente il nome del file è stato cambiato ma come sono stati cambiati esattamente gli altri quindi l'operazione è velocissima facilissima e soprattutto indolore ve la raccomando perché se avete ancora degli scatti che portano nomi altisonanti come quelli che abbiamo detto prima per cui underscore img o dsc o qualsiasi altra sigla strana che viene impostata dalla vostra fotocamera avete l'opportunità di rimettere ordine quindi nel vostro catalogo quelli che di voi hanno seguito magari i miei videocorsi relativi proprio all'organizzazione delle foto questo discorso l'hanno già sentito altrimenti fatevi un giro perché l'archivio fotografico di lightroom vale la pena di essere tenuto sempre molto ben organizzato è una delle prerogative di lightroom detto questo prima di salutarvi vi ricordo che uno c'è un bel link qua sotto che vi dice iscriviti gratis a total photoshop è una buona idea perché primo è gratis ed è realmente gratis secondo vi mandiamo solo e unicamente gli aggiornamenti le informazioni che vi interessano perché come ben sapete le impostazioni della nostra mailing list sono sono molto cambiate da qualche periodo a questa parte e oltretutto ricevete solo per voi che siete iscritti al nostro sito la nostra mailing list delle offerte assolutamente esclusive che non ha nessun altro per quanto riguarda video corsi master class e tutte le cose che organizziamo per approfondire i temi della creatività ridetto questo a questo punto il max come al solito vi augura tanti bei pensieri positivi buona luce buoni scatti e ci vediamo alla prossima puntata